A Milano continua a registrarsi una crescita dei prezzi delle abitazioni molto sostenuta e in accelerazione rispetto al trimestre precedente. Lo ha reso noto l'Istat che ha evidenziato come la crescita nell'ultimo trimestre sia passata dal più 5,6% rispetto al più 6,4% dell'ultimo periodo, confermando un aumento che non si è mai interrotto a partire dal 2015. Numeri così elevati che, facendo due conti, fanno emergere come per comprare casa nel capoluogo Lombardo servano in media 16,8 anni di stipendio, come afferma Asso Utenti commentando i dati diffusi dall'Istat. Scendendo nel dettaglio, l'Associazione dei consumatori ha stimato che a Milano il prezzo al metro quadro per una casa si aggiri intorno ai 5.199 euro, con alcune differenze però in base alle zone. Senza ombra di dubbio, la più cara è quella del centro, dove le cifre medie raggiungono gli oltre 10.000 euro per metro quadro. Tra le zone più economiche, invece, risultano Bisceglie, Baggio e il quartiere Olmi, dove la media al metro quadro scende intorno ai 2.689 euro. Secondo questi numeri, dunque, per una casa da 70 metri quadri, in media, il prezzo arriva a 363.930 euro, il che, se si ipotizza uno stipendio netto mensile di 1.800 euro, a Milano servono dunque 16,8 anni di stipendio per comprare un'abitazione, contro i 10,7 anni di Roma e i 6,2 anni di Torino, evidenziando come i cittadini milanesi sono decisamente i più penalizzati d'Italia per quanto riguarda il mercato immobiliare.